Grazie, grazie Prefetto. Credo che dalle parole del Prefetto Panza, come ringrazio i direttori delle agenzie, i ministri presenti, il Presidente del Copasir e i suoi componenti, dalle parole del Prefetto sia abbastanza chiaro che non ci troviamo di fronte a semplicemente l'adempimento di una previsione della legge di riforma di dieci anni fa, ma ci troviamo di fronte a un'occasione rilevante. Dal mio punto di vista è rilevante in primo luogo per ringraziare le donne e gli uomini della comunità dell'intelligence per il lavoro che fanno per definizione in modo riservato e non sotto i riflettori per la nostra sicurezza. Credo che ogni tanto in queste occasioni formali dobbiamo ricordarci di quanto preziosa sia quest'attività per garantire la sicurezza del nostro Paese. In secondo luogo direi per sottolineare l'importanza del rapporto tra questo lavoro e il Parlamento, perché in una relazione che pur non essendo classificata contiene elementi informativi credo di grande rilievo e di grande interesse, la nostra intelligence riferisce al Parlamento, confermando quello che è il binomio fondamentale di questa attività, cioè il ruolo dei nostri servizi di sicurezza e il loro rapporto da un lato con l'autorità di governo e dall'altro con l'attività di controllo e indirizzo del Parlamento. Infine direi che è importante questa occasione perché in un certo senso racconta la relazione sul 2016, pur tra mille contraddizioni e difficoltà, di una capacità che c'è stata di conoscere e per quanto possibile prevenire e contrastare sfide e minacce di vario tipo e anche relativamente nuove. Quindi per noi è anche in un certo senso motivo di soddisfazione, ripeto pur tra mille difficoltà, il fatto che si possa fare una relazione nella quale si dà conto di risultati ottenuti, di attività che si svolgono, di rischi ancora aperti nell'ambito appunto di un quadro che ha messo in luce capacità importanti. E lo ha fatto nei diversi settori, in primo luogo certamente nel campo della minaccia che ci proviene dal terrorismo di matrice fondamentalista islamica, che continua a essere forse l'elemento centrale della nostra preoccupazione, della nostra attenzione, del nostro lavoro, della nostra collaborazione con apparati dei nostri paesi vicini, amici, alleati. Il 2017 potrebbe essere l'anno della sconfitta militare di Daesh o almeno della sconfitta della capacità di Daesh di controllare in modo rilevante un territorio che, come tutti sappiamo, è stata un po' la grande novità di Daesh negli ultimi due o tre anni, ma altrettanto chiaro è che la minaccia, diciamo così, jihadista sia in versione Daesh che in versione Al-Qaeda, sia che nelle versioni delle diverse rami che dal Golfo di Guinea al Golfo del Bengala caratterizzano purtroppo la minaccia terroristica, non sarà conclusa, non sarà cancellata da una auspicabile possibile vittoria sul terreno militare in Iraq e in Siria. Il che non tende a sminuire l'importanza di questo successo, se riusciremo a conseguirlo, come oggi è possibile, ma ci fa dire che anche di fronte a questa prospettiva non dobbiamo certamente abbassare la guardia per il contesto in cui operiamo. L'Italia ha grandissimi vantaggi e opportunità dal suo essere al centro del Mediterraneo, ma naturalmente ne ha anche le minacce e i rischi. Quindi è un lavoro che continua, che continua nell'ambito della coalizione internazionale contro Daesh e nella quale i nostri servizi di intelligence hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo di grande importanza. È un lavoro che prevede tanti aspetti. Il prefetto Panza ricordava il contrasto al finanziamento del terrorismo e i legami che possono esserci tra questo e le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti a livello internazionale. Un'altra parte del nostro lavoro è il lavoro per cercare di contrastare per l'appunto questi traffici criminali di esseri umani e contemporaneamente di stabilizzare alcuni dei paesi più instabili e dai quali vengono in modo più evidente pericoli, minacce in questo periodo. Fatemi dire da questo punto di vista che le responsabilità che l'Italia si è presa, perfino di leadership a livello internazionale, in un teatro come quello libico, hanno visto un gran lavoro non soltanto dei nostri diplomatici, dei nostri militari in funzione di pace, di assistenza, di stabilizzazione, ma anche della nostra intelligence che continua in un lavoro prezioso. Io considero l'assunzione di responsabilità da parte delle attuali autorità libiche e del Presidente del Consiglio Presidenziale Serraj come molto rilevante. Il fatto che queste autorità diano un messaggio e lo abbiano fatto, anche firmando con noi l'accordo che abbiamo firmato circa un mese fa, di essere disponibili ad assumersi una responsabilità sul terreno del contrasto ai traffici di migranti clandestini, è un fatto nuovo, sappiamo coraggioso da parte di chi prende una decisione di questo genere, che non cancella naturalmente le fragilità della situazione libica, su cui si potrebbe scrivere in un libro che tutti conosciamo, ma che ci dice che c'è un terreno su cui si può lavorare e si può lavorare insieme. L'impegno della nostra comunità di intelligence è stato, come ricordava il Prefetto Panza, in tutte le direzioni, una di quelle che assume certamente un rilievo in questa fase storica, in questa fase politica, è l'attività attesa a difendere i nostri asset strategici dal punto di vista della tecnologia, della sicurezza economica, su cui certamente l'Italia deve difendersi e deve difendere la propria sovranità. C'è una strana discussione sugli aggettivi, quando noi diciamo che l'Italia è un paese sovrano e che difende la propria sovranità, non facciamo nessuna concessione a strane idee di voler riportare in Europa dinamiche conflittuali tra singoli paesi che nel secolo scorso hanno prodotto tutto quello che hanno prodotto. Noi crediamo nell'Unione Europea, crediamo nella costruzione dell'Europa, difendiamo tuttavia i nostri interessi tecnologici, strategici e apprezziamo il lavoro che fa l'intelligence in questa direzione. Così come ne apprezziamo l'attività attesa a prevenire altri tipi di minacce più interne, derive che possono soffiare sul fuoco anche del disagio, delle tensioni sociali, delle opposizioni a particolari infrastrutture che hanno una certa rilevanza economica per il Paese, e infine uno dei terreni sui quali maggiormente si impegna oggi il gruppo dirigente della nostra intelligence e il prefetto Panza in prima persona, la necessità di adeguare l'architettura e l'impegno italiano in termini di cyber security alle sfide sempre crescenti che la cyber security propone a livello internazionale. E come sapete c'è un capitolo a parte della relazione al Parlamento che contiene un documento specificamente dedicato a questo. Credo che il messaggio conclusivo sia molto semplice. Sappiamo di essere in un mondo in cui si voltiplicano le cosiddette minacce asimmetriche, banalmente significa che non c'è più la minaccia, non c'è più tanto la minaccia tradizionale di eserciti stranieri alle porte, ma ci sono minacce di vario genere, che vengono dal terrorismo fondamentalista, dagli attacchi cyber e da molte altre questioni di cui la relazione ampiamente riferisce. A queste minacce non si risponde nell'illusione di potersi proteggere chiudendoci, ma si risponde accettando la sfida. Il messaggio è semplicissimo, più sicurezza non vuol dire meno libertà. Al contrario, oggi avere più sicurezza è una condizione per continuare a vivere liberi, per continuare a poterci, tra virgolette, permettere una società aperta, ispirata ai valori che abbiamo conquistato e che intendiamo difendere. Quindi i cittadini italiani possono essere certi, certi non della mancanza di minacce, perché ignorare le minacce alla nostra sicurezza sarebbe un'illusione, ma possono essere certi del fatto che la qualità del lavoro di chi queste minacce lavora per conoscere, per contrastare, per prevenire, è una qualità molto alta. E quindi, così come non dobbiamo ignorare queste minacce, non dobbiamo certo agitarle per suscitare paure ingiustificate, che sarebbe un pericolo altrettanto grave. Nell'equilibrio e nel lavoro della nostra comunità di intelligence c'è la risposta ai tempi in cui viviamo, nella consapevolezza che questo lavoro costituisce davvero un'eccellenza per le istituzioni della Repubblica. E di questo, di nuovo, ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini dell'intelligence italiana. Grazie.